...perché abbiamo intervistato Carmelo Barbagallo del coordinamento regionale dei Vigili del Fuoco. Sentiamolo allora. L'ultima spending review che sarebbe il riordino per i Vigili del Fuoco ha di fatto tagliato sulla sicurezza. Le criticità sono tante, la carenza di organi ormai è nota, sono più di 100 unità solo a Catania. I mezzi che abbiamo sono di una vetustà o mai accertata. Ogni intervento che noi facciamo rischiamo di rimanere a piedi e li rattoppiamo con il famoso fil di ferro. Questo veramente è inammissibile nel 2017. Vogliamo un rinnovo parcomezzi, vogliamo le assunzioni, vogliamo la stabilizzazione dei precari, che ricordiamo secondo gli standard europei dovremmo essere un Vigili del Fuoco ogni 1.000-1.500 abitanti, invece allo stato attuale siamo uno ogni 15.000. Giornalmente siamo circa 80 unità dalle 8 alle 12 e un'ottantina di unità dalle 20 alle 8, perché noi ci dividiamo in quattro turni differenti che si attendono giornalmente. 80 unità sono poche perché non è che sono solo in centrale a Catania, sono per tutta la provincia. Calcoliamo le ferie, calcoliamo se c'è qualche infortunio o qualche malattia e i numeri sono veramente ridotti. Il nucleo sommozzatore la sera è chiuso, perché hanno pensato bene con la spending review che le dicevo poc'anzi di tagliare il nucleo sommozzatore nelle ore notturne. Se dovesse accadere una bomba d'acqua come quella che sta accadendo a Nord Italia, noi dovremmo aspettare che arrivino i colleghi di Palermo. Voglio menzionare il servizio lavanderia di Catania a sei mesi che non abbiamo lavanderia. Noi abbiamo, non è che indossiamo la divisa, la nostra è un DP, un dispositivo di protezione individuale di terza categoria, cioè salvavita. Ci sono tanti colleghi che sono quasi senza indumenti da lavoro. Questa è una cosa veramente vergognosa. Chiediamo risposte certe. Noi richiediamo il rinnovo del contratto che ha otto anni che è scaduto, ricordiamo, nel 2009. Chiediamo l'Ineil perché non abbiamo l'Ineil. Il riconoscimento della categoria è altamente e particolarmente usurante. La professionalità, le malattie professionali, noi se ci facciamo male rischiamo di essere messi fuori servizio totalmente con un allungamento di carriera di altri 5-6 anni.